salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale come avete letto dal titolo questa sarà una recensione particolare più che altro perché recensisco due pooper in un solo video e poi perché sono due poopers che mi sono stati richiesti da molto tempo poi perché questo video lo faccio in concomitanza con il mio compleanno che in realtà è l'11 febbraio però quindi fra cinque giorni come avete letto i due poopers in questione sono morton e revergo partiamo da morto ci tengo a precisare che alcuni dei lavori suoi che sono andato a visionare sono un po troppo strani per me perché hanno uno stile troppo macabro macabro o enigmatico però parlerò di due sue itp recenti che mi hanno colpito un po di più la prima delle due è le campane del signor carmine essa è presa dallo sketch vecchio della corrida di un signore che imita campane e fuochi d'artificio ciò che mi ha colpito di questa poop è che ho misto di rumori effetti rumorosi protoni effetti mirror molto concentrati e fatti benissimo quindi diciamo che qui vengono infatti gli stili più recenti diciamo però facendo un excursus anche di tutta la storia delle itp e ciò migliora l'effetto finale del video che è incredibile quanto renda l'originalità quindi di questo video sta proprio nel rendere migliore e più ad effetto ciò che in genere viene realizzato in modo più macchinoso e con video più molto più lunghi sicuramente promossa questa pup quindi direi voto sette e mezzo l'altra pup di morton che invece analizzerò è sempre recente ma dire già di recente direi che lo stile non ha niente il titolo del video è la parabola dei sauce ma risale a quando i sauce facevano ancora ridere è una pup lunghe lunghetta ma ricchissima di spunti ecco le parti principali che mi hanno colpito e si inizia già bene perché si può vedere un effetto luminoso e a colori che è molto appariscente e figo la pup essendo presa da un cartone su gesù diciamo che non ci va leggero né con linguaggio né con le citazioni sia sessuali che politiche che non sensi e anche blasfeme e volgari procede in particolare poi con degli effetti magnifici come gli occhi e la bocca che girano e si distorgono sulla faccia con distorsione e deformazioni anche della faccia stessa che direi sono sono magnifiche poi c'è la citazione del sauce per dire soldi che a me piace molto con l'effetto luminoso bellissimo iniziale anche sulla scritta tra le citazioni politiche ci sono quelle di salvini di borghessi e di saddam hussein poi tra le altre citazioni ci sono quelli di youtubers e di altri poopers molto molto varia e simpatica direi poi bellissima anche la parte dove cavalli avvano al contrario mi ha fatto morire non mancano citazioni anche a film come star wars e a cartoni come topolino sempre tramite immagini in fotomontaggio comunque c'è anche la citazione dell'uomo che trolla non so come come chiamarlo troll facebook faccia troll face faccia che trolla forse tutte citazioni vecchie quindi di old pooping insomma parlando della pupa in generale posso dire in conclusione che è molto dinamico divertente irreverente stile classico e di non sense puro quindi l'originalità e la fantasia sono tutto direi voto al video 8 un ultimo appunto su morton lui fa video da cinque anni ma ne ha fatto un numero elevatissimo e non solo poops direi quindi lui è molto attivo su youtube morton quindi è un po strano come stile per me ma è bravissimo originale e geniale per quello ho voluto fare un video su di lui passiamo a revergo lui fa video da addirittura nove anni ma credo abbia smesso cinque anni fa quindi forse è inattivo comunque di lui ho visionato solo una poop direi bellissima però il titolo è jessica flasher soffre di strabismo è una poop direi al 100% vecchio stile essendo infatti del 2013 con molte peculiarità che ora analizzerò già dall'inizio il video non sense è volgare al massimo con effetti visivi che per l'epoca erano all'avanguardia credo come il mirror verticale non so come chiamarlo oltre a riferimenti sessuali la cosa che mi hanno fatto impazzire di più sono oltre a riferimenti sessuali la citazione a genere musicale metal con una canzone di dragonforce che parte con jessica flasher e fa headbanging sfotte la testa insomma incredibilmente divertente come trovata direi c'è anche qualche doppiaggio e un accenno di reverse che a me piace molto perché da dinamicità al video sono poi aumenti di volume eccitazioni horror splatter con musiche direi molto nerd vecchio stile altre citazioni tre sono quelle del mostro di firenze di giuseppe simone poi c'è la citazione della puff vecchia squadella con il tipo che vola sul tappeto che qualcuno però mi deve spiegare a cosa riferita perché è geniale comunque come immagine altri effetti del video sono esplosioni mirror flash mirror facciali classici tra virgolette credo che credo credo siano precursori dei protoni mini clips audio e video che danno il tocco finale concludendo l'analisi posso dire che questa pupa incredibilmente bella perché pur avendo stile classico e molto avveniristica avendo un sacco di elementi come effetti elementi come effetti protoni protoni primordiali sente smix in perfetto clips e immagini di ogni tipo citazioni sia vecchie che recenti qualche accenno di reverse direi cioè che ha tutto quello che serve per vederla straordinaria voto direi otto e mezzo come finale video posso dire due parole sul revergo in generale questa pupa da sola mi ha fatto capire che bravissimo geniale quasi un precursore e pieno zeppo di idee non potevo quindi non recensirlo e mi dispiace non faccia più video da tempo ok ragazzi questo video è stato un po più lungo del solito comunque era un video speciale come ho già detto si conclude qua comunque buon proseguimento buon carnevale e come sempre alla prossima